Si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza del 118 nel primo pomeriggio di ieri per placare gli animi di un disabile di circa 40 anni residente in via Freda, sul Mona. Da quando si è preso Roma avrebbe tentato di aggredire in casa l'anziana madre convivente, ultraottantenne, fino a cagionarle un evidente stato d'ansia. E' stato il fratello una volta rientrato nell'abitazione ad alertare il centralino del 118. I sanitari hanno trattato sul posto il disabile, lo stesso sarebbe stato colto probabilmente da una crisi improvvisa, tanto da spintonare la madre che fortunatamente non avrebbe riportato ferite o escoriazioni. Le cure somministrate dei sanitari hanno quindi sortito l'effetto sperato, nel senso che per il disabile, dopo una breve osservazione sul posto, non si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Nei mesi scorsi si è reso necessario il ricovero per l'anziana, dopo un ulteriore episodio avvenuto tra le mura domestiche, tuttavia i tentativi di aggressione sono da ricondurre nell'alveo della patologia di cui soffre il figlio disabile.